Allora io sono una che ha tre ristoranti e fino prima di conoscerli non mangiava perché non aveva i soldi per mangiare e poi ho conosciuto loro e nel giro di quattro mesi ho pagato tutti i debiti e non erano pochi e ho scoperto che sono piccoli soldi e ce l'ho da parte! E' bellissimo! Quindi chissà cosa arriva dopo con le altre quattro Grazie mille